L'andamento della pandemia vede oltre 6.000 nuovi contagi, tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva in Sicilia, oltre mille i nuovi positivi, aumentano ancora gli ospedalizzati. Vaccini, prosegue la campagna vaccinale territoriale e di villeggiatura a Ragalna e sempre sul fronte vaccini, sabato 4 settembre il Com di Biancavilla riaprirà le porte necessarie alla prenotazione. Proteggere le campagne dal rischio idrogeologico, questo l'appello degli agricoltori del Paternese che chiedono interventi per la pulizia dei canali di scolo. Due persone sono state arrestate dai carabinieri a Paternò e Belpasso per maltrattamenti nei confronti delle ex compagne. Amore contro è questo il titolo della serata evento che si terrà domenica 5 settembre alle ore 21 nello spiazzo antistante al Santuario Maria Santissima della Consolazione di Paternò. Amore contro l'inciviltà, amore contro il degrado sociale, amore contro l'arroganza. Adrano verso le elezioni, presentata pubblicamente questa mattina la prima candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 ottobre. Si tratta di quella di Vincenzo Calambrogio, candidatura sostenuta da PD, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Azione Civica. Il Ponte dei Saraceni, ieri in prima serata sul Rai 1 alla trasmissione Linea Verde Radici, Storie dalla Terra, si è occupata delle bellezze della Sicilia, tappa anche nella Valle del Simeto, in territorio di Adrano. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. L'andamento della pandemia vede oltre 6.000 nuovi contagi. Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva. In Sicilia oltre 1.000 i nuovi positivi. Aumentano ancora gli ospedalizzati. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Sono 6.761 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati poco più di 293.000 con un'incidenza del 2.3%. 62 decessi, alcuni dei quali si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti 6.372 e dunque gli attuali positivi tornano a salire di 320 unità per un totale di quasi 137.000. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. 15 posti letto in più nelle ultime 24 ore nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite per un totale di 555 malati gravi. Mentre in area medica si liberano 26 posti letto per un totale di 4.205. In Sicilia i contagi restano sopra quota 1.000 ma tornano a salire i ricoveri in area medica e non. I nuovi positivi all'infezione nell'isola sono 1.182 su oltre 22.000 tamponi processati tra molecolari antigenici con un tasso di positività del 5.2%, dunque leggera flessione rispetto ieri. 23 decessi che si riferiscono tutti i giorni precedenti. Alto anche oggi fortunatamente il numero dei guariti. 1.334 per la precisione. Gli attuali positivi, cioè coloro che attualmente sono alle prese col virus, vedono un decremento di 175 unità per un totale di 28.125. Dicevamo dei ricoveri che tornano a salire nell'isola in terapia intensiva e ci sono 4 malati intubati in più per un totale di 118 mentre in degenza ordinaria i nuovi posti letto sono 13 per un totale di 849. 221 le nuove infezioni refertate nella provincia di Catania, dietro sole 247 nuovi casi di quella di Palermo. Ad Adrano salgono, seppur in maniera contenuta, i contagi da Covid. 50 quelli attuali, se in più rispetto ieri, ma il numero degli ospedalizzati non cambia. Resta fermo a 1. Vaccini, prosegue la campagna vaccinale territoriale di villeggiatura a Ragalna e sempre sul fronte vaccini. Sabato 4 settembre il Com di Biancavilla riaprirà le porte necessarie. La prenotazione. Sul fronte vaccini a Ragalna, presso i locali del centro polifunzionale Sampio, prosegue la campagna vaccinale territoriale di villeggiatura. Sarà dunque possibile, per chi fosse interessato, prenotare la propria vaccinazione chiamando i numeri 095 79 85 123 oppure 320 55 41 968. Il servizio di prenotazioni è attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Così come precisato, è inoltre possibile richiedere la vaccinazione a domicilio per coloro i quali, per motivi di età o di salute, siano impossibilitati a spostarsi. Nella giornata di mercoledì 8 settembre dalle ore 18 alle ore 23 in piazza Cisterna sarà attivo un infopoint con i medici dell'ASP di Catania per chiunque avesse dubbi, perplessità o desiderasse avere dei chiarimenti. E sempre restando in argomento vaccini, sabato 4 settembre di mattina le porte del Com di Biancavilla si riapriranno per un nuovo appuntamento con la vaccinazione dalle 9 alle 13. Necessario prenotarsi inviando un'email all'indirizzo vaccino covid-comune.biancavilla.ct.it oppure telefonando entro venerdì dalle 9 alle 13 al numero 095 76 00 444 Ad essere somministrato sarà il siero Pfizer Cambiamo adesso argomento proteggere le campagne dal rischio idrogeologico questo l'appello degli agricoltori del Paternese che chiedono interventi per la pulizia dei canali di scolo Siamo in Contrada Iannarello tra i territori di Paternò e Ramacca siamo esattamente sul canale Lembison un canale di scolo come vedete alla mia destra in questo momento un'attività che è stata appena effettuata dal consorzio di bonifica per come dovrebbe essere il canale ripulito per evitare i rischi idrogeologici che tanto gli agricoltori temono invece alla mia sinistra il canale come ancora purtroppo è e così accade per la quasi totalità di questo canale di scolo ma anche per altri canali di scolo della zona quello che chiedono gli agricoltori oggi è quello di intervenire immediatamente ci sono 11 milioni di euro messi a disposizione dalla regione siciliana intervenire per evitare quello che già è accaduto purtroppo negli scorsi anni quando le piogge hanno praticamente a causa di canali praticamente inesistenti hanno letteralmente invaso di acqua ai fondi agricoli distruggendoli un problema anche questo per gli agricoltori che sono già piegati da tantissimi problemi che devono fronteggiare ogni anno parliamo degli incendi in questa torre d'estate abbiamo visto quello che è accaduto nelle diverse contrade di Paternò e non solo dell'intera piana di Catania e poi c'è anche la questione della mancanza di acqua e questo del rischio idrogeologico visto che ci avviciniamo all'autunno e all'inverno è un altro problema che bisogna fronteggiare ma se si interviene oggi forse almeno questo si può evitare Signor Di Stefano oggi insieme a tanti altri agricoltori siete qui a Iannarello tra i territori di Paternò e Ramacca il vostro problema quello che oggi chiedete di risolvere riguarda il rischio idrogeologico Sì esattamente abbiamo appreso grazie alla stampa e devo ringraziare anche all'amministrazione regionale di avere stanziato dei soldi e non sono pochi circa 11 milioni di euro la scorsa settimana siamo qui per manifestare l'interesse nella pulizia dei corsi d'acqua denominati Lembiso e Iannarello a causa delle molte insomma un sacco di esondazioni che si sono verificate negli anni scorsi perché i fossi di scuola appunto non sono puliti quindi noi siamo qui a vigilare e a collaborare con gli enti preposti affinché tutto avvenga nel migliore dei modi nella massima sicurezza sia nostra che per gli investimenti che faremo nel futuro nelle nostre aziende già pregiudicate ecco alle sue spalle c'è un tratto del canale Lembiso da quanto tempo è così vediamo insomma che è veramente sporco da quanto tempo? allora è così da un sacco di anni praticamente dall'ultimo incendio che ha purtroppo provveduto alla pulizia delle canne che si vedono qui in parziale insomma le canne che ci sono praticamente che cosa succede? succede che questi corsi d'acqua e qui il nostro incontro di oggi deve servire a si sensibilizzare la pubblica amministrazione a eseguire i lavori ma anche agli agricoltori coloro fossero proprietari dei fondi prospicenti ai corsi d'acqua di facilitare appunto le operazioni di sgombro pulizia ordinaria e straordinaria sempre e non in via del tutto eccezionale solo questo intendo dire signor Cristaldi qui quando piove che cosa accade? quando piove l'acqua invece di uscire dai fossi di scuola privati entra e quindi si allagano tutte le campagne l'ultima volta che qui si è allagato quando è stato? fino all'anno scorso succede sempre questo fatto di qua quindi voi agricoltori vi dovete guardare dal fatto che non avete si deve stare attento al fuoco e all'acqua le uniche due cose che ci sono importanti sono queste qua il fuoco e l'acqua e poi d'estate anche il problema dell'acqua che non c'è l'estate è acqua l'estate ci mantengono asciutti e d'inverno ci mantengono subbagnati tu sei un giovane un giovanissimo che crede nonostante tanti problemi ancora nell'agricoltura vorresti però che questi problemi ovviamente venissero risolti sì sì esattamente anche perché ho dato tanto sto continuando a dare il mio obiettivo è quello di non arrendermi insieme agli altri agricoltori e il mio sogno sarebbe pian piano realizzare una piccola grande azienda agricola ovviamente e valorizzare i prodotti che diciamo la nostra terra ci offre perché vanno svaniti e poi comunque con questi problemi ogni anno abbiamo diciamo sempre una cosa nuova ecco ma a te cosa ti ha portato a investire e a credere nella terra ma inizialmente io diciamo facevo tutt'altro perché cioè così è capitato che per diciamo passatempo come diversivo con mio padre abbiamo acquistato dei terreni e pian piano stiamo andando avanti e io dal diciamo dall'ambito ristorativo sono passato a questo settore perché mi piace mi rende libero mi piace il contatto con la natura passiamo adesso alla cronaca nera due persone sono state arrestate dai carabinieri a paterno e belpasso per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna maltrattamenti in famiglia con questa accusa i carabinieri della stazione di paterno hanno arrestato in flagranza di reato una diciottenne il giovane armato di una bottiglia conterente della benzina si è diretto sotto casa dell'ex convivente anche lei di 18 anni minacciandola di darle fuoco a lanciare l'allarme i carabinieri di paterno sono stati i genitori della ragazza dopo che il diciottenne era arrivato sotto casa loro battendo i pugni sul portore d'ingresso e chiedendo di vedere il figlio nato lo scorso febbraio dopo una convivenza tra i due giovani di circa due anni visto lo stato di nervosismo dimostrato dalla ragazza i genitori si sono opposti da qui la rabbia scaricata dal diciottenne che gli avrebbe minacciati dicendo vi ammazzo tutti il diciottenne come accertato dai carabinieri era stato lasciato e denunciato dalla ragazza lo scorso mese di agosto perché mentre si trovavano in casa di amici lui l'aveva aggredita causandole delle lesioni giudicate guaribile in 20 giorni come refertato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Paternò nei giorni successivi alla ragazza sarebbero inoltre arrivati numerosi messaggi vocali dell'ex che la minacciava di darle fuoco insieme al bambino il diciottenne è stato quindi raggiunto dai carabinieri e portato in caserma a Paternò dove poi ha tranquillamente confessato che appena uscito dalla caserma sarebbe tornato sotto casa della famiglia della ex per dare fuoco a tutto per il giovane visto la confessione è scattato l'arresto e il trasferimento nel carcere di Caltanissetta così come disposto dal magistrato della procura della Repubblica di Catania da Paternò a Belpasso dove i militari dell'arma della stazione hanno arrestato una 26enne in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla corte d'appello di Catania il giovane negli ultimi mesi ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie di 27 anni tentando di contattarla telefonicamente o inviandole degli sms appostandosi sotto casa rivolgendole delle minacce di morte indirizzate non solo a lei ma anche ai suoi familiari giungendo perfino ad affermare la bar è pronta tutto questo denunciata dalla ex moglie oltre a delle foto postate dall'uomo sui social dove si mostra con un'arma in pugno hanno portato il giudice a decidere per l'arresto e il trasferimento in carcere dell'uomo e adesso cambiamo decisamente argomento amore contro e questo il titolo della serata evento che si terrà domenica 5 settembre alle ore 21 nello spiazzo antistante al santuario Maria Santissima della consolazione di Paternò amore contro l'inciviltà amore contro il degrado sociale amore contro la ravanza si terrà domenica 5 settembre alle ore 21 a Paternò nello spiazzale antistante al santuario Maria Santissima della consolazione la serata evento dal titolo amore contro amore contro l'inciviltà amore contro il degrado sociale amore contro l'arroganza il santuario Maria Santissima della consolazione è stato scelto come luogo per questa serata evento è un punto di riferimento per Paternò e non solo giusto è un punto di riferimento per tutti i paternessi dove si trovano dove condividono dove vengono ecco con la famiglia a divertirsi e a stare insieme quello era il nostro desiderio un momento di incontro per divertirci per stare insieme e per iniziare quest'anno in maniera diversa le possibilità del santuario tutti le conosciamo un luogo che accoglie che ci fa sentire bene vogliamo anche rivindicare quello spazio di convivialità per poter insieme costruire una realtà nuova in questo Paternò che tutti amiamo come è nata l'idea di organizzare questa serata evento abbiamo maturato questo progetto quasi per caso nasce dall'idea di valorizzare il sagrato del santuario con amore e appartenenza anche il titolo è simbolico amore contro amore contro l'inciviltà il degrado sociale che negli ultimi tempi purtroppo nel sagrato del santuario e quasi in tutta la città è molto visibile sotto gli occhi di tutti ripartiamo con amore nel valorizzare i luoghi della nostra città luoghi simbolo e soprattutto cerchiamo di recuperare quel senso civico che abbiamo perduto fino ad oggi amore contro una serata all'insegna della musica e non solo sì infatti in questo caso la musica oltre che come arte è intesa anche come forma di aggregazione vorrei in questo caso anche ricordare gli altri componenti della band abbiamo al basso il maestro Alfredo Pennisi alla batteria il maestro Nuccio Palumbo e alle chitarre il maestro Jimmy Farina quindi interverrà anche l'attore paternese Giuseppe Parisi il quale reciterà dei monologhi sempre attinenti al tema dell'amore devo dire che già tantissime persone o perché appartengono al santuario o perché sono i nostri amici non vedono l'ora di assistere quindi questo ci fa molto piacere ma ovviamente tramite la vostra tv tramite tutti i canali che possiamo invidiamo tutti perché come avete detto voi non è un evento del santuario ma è un evento della città di Paternò tutta tenevo a dire che Padre Michele ci è stato veramente di grande sostegno perché è nato così per scherzo io Alberto e Alfio un giorno abbiamo detto facciamo una serata sai veramente un'idea molto libera molto lì e lui ci ha secondato e da lì giorno dopo giorno è diventata una realtà quindi adesso ci teniamo veramente che siano in tanti a venirci a vedere perché ci abbiamo lavorato un po' ci abbiamo messo tanto impegno nel giardino di Casa Finocchiaro a Ragalna domenica 5 settembre alle ore 21 si svolgerà la decima edizione di Carmina in orto evento biennale dedicato al pittore Peppino Finocchiaro in arte di Nessa l'evento nasce nel 2003 proprio dall'idea del maestro di Nessa e da allora la direzione artistica e a cura di Francesco Finocchiaro quest'anno in relazione ai 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante si propone agli spettatori una riflessione scomposta su tre figure cruciali del 300 italiano ovvero San Francesco Dante e Giotto a parlare al pubblico saranno Don Salvatore Ali parroco della parrocchia Spirito Santo di Paternò Loredana Pitino docente del liceo classico Cutelli di Catania Francesco Finocchiaro architetto e docente di storia dell'arte del liceo De Santis di Paternò l'evento è organizzato dall'Archeoclub d'Italia sezione Iblamajur e da Officina 21 con la collaborazione della famiglia Finocchiaro Cannavone Parliamo adesso di politica Adrano verso le elezioni presentata pubblicamente questa mattina la prima candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 ottobre si tratta di quella di Vincenzo Calambrogio candidatura sostenuta da PD Sinistra Italiana Movimento 5 Stelle e Azione Civica Questa mattina ad Adrano è stata presentata pubblicamente la prima candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 10 ottobre è quella di Vincenzo Calambrogio 66 anni docente in pensione indicato dal Partito Democratico Calambrogio potrà contare sul sostegno di una coalizione composta da Sinistra Italiana Movimento 5 Stelle ed Azione Civica la presentazione è avvenuta nel suggestivo scenario dell'ex pescheria in Piazza Mercato alla presenza del segretario regionale del PD Entoni Barbagallo di quello provinciale Angelo Villari del presidente dell'assemblea provinciale del PD Ersilia Saverino dell'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarusso dell'ex ministro del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo del segretario provinciale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto presenti anche Pippo Palazzotto di Azione Civica Eugenio Calidi Adrano Benecomune del capolista del Movimento 5 Stelle Vittorio Sant'Angelo e del segretario cittadino del PD Ermanno Vitale Genzo Calambrogio dunque candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra è appena finita la conferenza stampa di presentazione diceva sono molto emozionato mi tremano quasi le gambe perché è un momento importante per la mia vita Sì mi tremano le gambe perché quando si corre si è la probabilità di essere candidato non essere candidato le varie discussioni sembra quasi un gioco però quando poi si arriva alla parte finale dove si dice adesso sei candidato e allora lì il gioco della responsabilità diventa realtà e quindi le gambe leggermente tremano tremano perché dobbiamo affrontare i problemi di Adrano dobbiamo riportare i cittadini di Adrano all'interno delle istituzioni di questo palazzo comunale lo dobbiamo aprire alle esigenze dei lavoratori lo dobbiamo aprire alle esigenze di tutti quelli che per vivere hanno bisogno di un timbro di una firma di questo da parte dei funzionali di questo comune quindi ecco tremano le gambe perché è un rapporto che va oltre la persona ed è un rapporto che bisogna incarnare e interpretare le speranze dei cittadini di Adrano diceva prima siamo andati alla caserma dei carabinieri al commissariato di polizia per dire chi siamo noi ma anche per lanciare un messaggio di collaborazione con le forze dell'ordine ha detto la ricerca della legalità è un fatto importante perché nella legalità ecco ci ritroviamo tutti non si ritrovano semplicemente gli amici degli amici e quindi la legalità è un mondo di riferimento noi con le forze dell'ordine chiaramente vogliamo avere un rapporto nostro particolare speciale perché loro sono la tutela e la salvaguardia dei cittadini di Adrano Enturi Barbagallo segretario regionale del PD diceva l'importanza di questa coalizione non solo i partiti ma diceva soprattutto una spinta forte arriverà dalle forze civiche assolutamente siamo convinti che Vincenzo Calambrogio possa rappresentare il comune denominatore per un Adrano diversa l'Adrano che ha al primo posto la lotta per la legalità l'ottimizzazione dei servizi la valorizzazione turistica e storica di ogni angolo di questa straordinaria comunità abbiamo definito una coalizione che non solo parla il linguaggio dei partiti ma delle liste civiche sono convinto che tutti insieme con un lavoro di squadra avremo e lavoreremo per una grande prospettiva amministrativa in questa città Hermano Vitale segretario cittadino del PD parliamo di questa coalizione vogliamo ricordare com'è composta? Allora sì la coalizione è composta tra due forze civiche e tre partiti partiti sono il Partito Democratico Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana le forze civiche che ci accompagnano che sono pilastro portante sono adrano dinamica bene comune e azione civica la coalizione è composta al momento da queste forze chiaramente i giorni per la presentazione delle liste sono pochi ci auguriamo di essere ancora centro attrattivo di altre forze politiche la base è questa sperate di allargare la coalizione coinvolgendo altri gruppi politici guarda in questo momento ripeto noi siamo siamo questi se i gruppi politici avranno intenzione di dialogare con noi non ci sottrarremo chiaramente al dialogo purché venga rispettato il perimetro ideologico il perimetro valoriale che questa coalizione intende rappresentare questo era l'ultimo dei nostri servizi come sempre grazie per aver scelto la nostra informazione a tutti voi una buona serata grazie a tutti